Concerto straordinario in Italia al King's River Club di Isolo dei Gentle Giant, il complesso inglese venuto già in Italia una prima volta alcuni mesi or solo come gruppo spalla di Getro Tal ed ora ritornati in qualità di stelle di prima grandezza. Il complesso è pilotato dai tre fratelli Schumann e completato da tre loro compagni di conservatorio. I sei esecutori suonano ben 24 strumenti. A Fern Schumann dei Gentle Giant chiediamo che musica fate? La musica dei Gentle Giant è una musica tutta nostra. Il complesso si compone di sei strumenti, attingiamo da tipi diversi di musica. Alcuni di noi hanno fatto del jazz, altri sono musicisti classici, interpreti di blues e c'è anche un musicista del Theo Jolly Heavy Funk. Tutto questo messo insieme costituisce la nostra musica che non ha nessuna particolare caratteristica, è solo la nostra musica. Come sono nati i Gentle Giant? Io e i miei due fratelli Derek e Brian suonavamo già in un complesso, anzi abbiamo suonato in diversi complessi e nell'ultimo di questi complessi abbiamo preso gli elementi per formare il nostro. Volevamo tentare strade nuove, poi abbiamo scoperto Cary Meunier della Royal Academy Music tramite un amico comune e Cary Green da un complesso blues che ci venne raccomandato ed infine un paio di mesi fa Johnny Game dal complesso Grease che è diventato il compositore ufficiale della Gentle Giant. Conoscete la musica italiana? Sì? Sì? Quali sono gli autori preferiti? Le nostre preferenze vanno all'antica scuola italiana di Palestrina, Scarlatti, Vivaldi e Monteverdi, mentre non ci interessano autori successivi come Verdi, Eppuccini, Rossini. Sì, direi proprio che ci interessano i primi e che forse esercitano anche su di noi una certa influenza.